Ferma il dolore, firma la pace. Si terrà venerdì 7 luglio dalle 19 alle 21 in via Pozzi alla cooperativa Il Villaggio in città. L'ultimo banchetto di busto per la raccolta firme per la campagna referendaria Italia per la pace, in cui si legge. Nell'ultimo documento di programmazione economica il governo ha ridotto per il 2023 di 2 miliardi la spesa sanitaria e ha aumentato di 12 quella militare. Per il 2024 ha aumentato di 2 miliardi la spesa militare e diminuito di 2 quella sanitaria. I promotori sperano in uno straordinario incremento in extremis del numero delle sottoscrizioni o la consultazione popolare non avrà luogo.